Amici carissimi, siamo ritornati a Castelvecchio dagli amici della Physiomed per parlare ancora una volta di terapie riabilitative. Questa volta parleremo delle onde d'urto e dei suoi campi di utilizzo. Quale è la branca della medicina della quale si occupa? Principalmente io come fisioterapista e chiropratico mi occupo di tutte le patologie osteoarticolari che possono insorgere a livello personale sia nell'adulto sia nel giovane ma anche soprattutto purtroppo nell'anziano. Parliamo delle onde d'urto nella spina calcaneare, cosa sono e in termini pratici qual è l'utilizzo? La spina calcaneare o sperone calcaneare è una patologia molto frequente nelle persone adulte ma che non disdegna anche il giovane. Cos'è la spina calcaneare? è una formazione ossea che si forma a livello del calcagno posteriormente ma principalmente a livello plantare. Questa patologia che sintomi dà e come compare il dolore? L'insorgenza del dolore avviene principalmente con un dolore acuto della fascia plantare a livello del calcagno quindi dell'appoggio posteriore del piede. Il soggetto, la persona interessata da questa patologia trova difficoltà specialmente il mattino o dopo un periodo di inattività di alcune ore nell'appoggiare il piede a terra. Quindi il dolore si presenta acutizzato, invalidante nel ciclo del passo che persiste per un po' di tempo per poi durante la giornata o durante il carico alleviarsi un pochettino. Quali sono le cure possibili che si possono mettere in pratica su questa patologia? L'approccio per la patologia da spina calcaneare è principalmente polispecialistico in quanto è una patologia che insorge da malfunzionamento dell'appoggio plantare. Spesso insorge post dolore al ginocchio, post dolore all'anca, post dolore alla schiena ma principalmente nelle donne anche nel periodo estivo perché sono abituate ad avere una postura anteriorizzata del piede quindi a portare un mezzo tacco. Il tacco si ritrovano poi nel periodo estivo a utilizzare una calzatura bassa come la lattina come l'infradito dove il piede non è nella sua posizione abituale e quindi il malposizionamento dell'appoggio plantare provoca questo tipo di infiammazione. Le cause principali anche di questo tipo di patologie sono l'avere un piede cavo. Le persone con un piattismo del piede soffrono molto meno di questa patologia in quanto la fascia plantare è già nella posizione detesa, avranno altri tipi di problema ma non soffrono quasi mai di spina calcaneare quindi il piede cavo è una delle con cause di questo tipo di dolore. Abbiamo parlato all'inizio delle onde d'urto ma quanti tipi ne esistono e quali sono soprattutto le differenze. In medicina le onde d'urto si dividono in due grosse branche, quella delle onde d'urto radiali e quelle delle onde d'urto focali. Le radiali sono delle onde balistiche quindi percussorie dove un puntale lungo circa 20-25 cm viene appoggiato sulla cute ed emette in parole molto semplici delle vibrazioni, delle percussioni. Mentre le onde d'urto focali in medicina sono veramente molto più performanti, specializzate in patologie come questa della spina calcaneare, poi vedremo nell'utilizzo della periartrite calcifica di spalla, in quanto non sono delle onde balistiche ma sono delle onde acustiche che convergono in un punto molto preciso, quindi nello specifico vengono ad essere utilizzate per una maggiore selettività del problema. Le onde d'urto focali la loro limitazione qual è? È trovare un operatore che abbia questo tipo di macchinario perché purtroppo ha dei costi di impianto, di acquisto molto più elevati rispetto alle radiali, proprio per la loro specificità. Io sono uno di quelli che nella provincia di Pesaro ha iniziato anzitempo a utilizzare questo tipo di macchinario, in quanto spesso viene utilizzato anche con l'ausilio dell'ecografo, specialmente in alcune patologie viene in simbiosi l'utilizzo dell'onda d'urto focale e dell'ecografia. Le onde d'urto hanno indicazioni terapeutiche in altre branche della medicina? Sì, negli ultimi anni viene spesso utilizzata anche in ambito urologico per patologie dell'indurazio penis, dell'insufficienza urinaria, del dolore pelvico cronico. Ci sono anche utilizzi in dermatologia per quanto riguarda le verruche. In termini pratici, quante sedute occorrono e soprattutto dopo quanto insorgono i primi benefici? Allora, le sedute variano da un minimo di 3 a un massimo di 5. È normalmente l'iter terapeutico. Una seduta dura all'incirca 10 minuti. Il paziente avvertirà un minimo di dolore, ma è sopportabile, in quanto le onde d'urto focale di ultima generazione rispetto a quelle di qualche tempo fa sono molto meno dolorose e più sopportabili da parte del paziente. Il beneficio non si ha dopo la prima o la seconda seduta, ma bisogna attendere all'incirca un mese dall'ultima, in quanto questo è il tempo terapeutico in cui l'onda d'urto e la sua efficacia va a formare una nuova angiogenesi nel punto dove vanno a colpire. Ma dal punto di vista proprio oggettivo, che cosa avviene alla spina calcaneare? Si frantuma? Qual è il suo destino? No, assolutamente no. La spina calcaneare è un osso. Fino a qualche tempo fa l'ortopedico optava per l'intervento, ma negli ultimi 10-15 anni questa pratica è molto diminuita, in quanto si opta di più per la terapia conservativa. Con le onde d'urto noi andiamo ad agire sull'infiammazione tendinea della fascia plantare, in quanto una volta trattata questa la spina calcaneare può anche rimanere per tutta la durata della vita di una persona. Quello che è fondamentale è ad agire sul tendine. Quindi, oltre alle onde d'urto focali, spesso è consigliabile l'utilizzo di un plantare su misura, che un tecnico ortopedico o un podologo vi potrà poi confezionare adatto a voi. Oltre a quella del piede, qual è l'altra articolazione che trova beneficio dall'utilizzo delle onde d'urto? Molto frequente come patologia che possiamo riscontrare sono anche le calcificazioni di spalla o periartrite calcifica. Queste periartrite calcifiche insorgono spesso anche in giovane età, non come nel primo caso del piede, spesso in età più avanzata. Non fanno quindi distinzione di sesso né di età. La calcificazione di spalla, a differenza dell'esostosi del piede, quindi un vero e proprio osso, in questo caso sono dei depositi calcifici di sali di calcio che si formano senza una ben specifica spiegazione in ambito medico, principalmente nel tendine del sovraspinato. La zona esterna anteriore della spalla quindi è quella che è coinvolta. Il dolore spesso riferito notturno all'incirca a metà braccio. Le calcificazioni sono spesso asintomatiche, vengono scovate, vengono trovate quando la persona, il paziente, dopo un periodo più o meno lungo di dolore fa un esame specifico che il suo medico prescrive. Quali sono le indagini strumentali che possono far scovare la patologia dalla spalla? Il gold standard per verificare che ci sia una calcificazione di spalla, in primis un'ecografia osteoarticolare, dopodiché l'ecografista o il medico potrà prescrivervi anche un RX e nei casi più gravi di sospetta lesione della cuffia dei rotatori lo specialista vi chiederà anche una risonanza magnetica. Come per il piede immagino che ci sia un ciclo di trattamenti? Quali sono e quanti sono? In questo caso riguardo le calcificazioni di spalla dovremo innanzitutto dividere piccole calcificazioni da grandi calcificazioni. Intendiamo medio piccole quelle che vanno fino ai 6-7 mm, intendiamo calcificazioni più grandi quelle sopra gli 8 mm, 1 cm. In questo caso, come nel piede, varieremo il numero e la durata delle sedute in base alla grandezza della calcificazione, quindi da un minimo di 3 a un massimo di 6, sempre a cadenza settimanale. Quello che in questo caso incide molto è anche la densità della calcificazione, in quanto alcune sono molto più rarefatte di forma lineare, alcune hanno una forma più ovalare e compatta, quindi tecnicamente più resistenti. Mentre però nel piede parlavamo che lo sperone rimane lì, non va frantumato, nella calcificazione di spalla abbiamo buone probabilità di un riassorbimento della stessa e quindi di una scomparsa completa sia del dolore che della calcificazione. Questo quando avviene? Avviene all'incirca, come per le altre patologie, dopo circa un mese, un mese e mezzo dalla fine del trattamento. Quindi anche in questo caso non bisogna aspettarsi un risultato nel breve periodo, ma nel medio-lungo periodo. Fondamentale per la spalla è anche il recupero da parte del fisioterapista dell'articolarità del paziente, in quanto queste spalle risultano spesso molto bloccate, dolenti, vanno incontro a una ipomobilità sia a livello di abduzione che di elevazione. Quindi il fisioterapista lavorerà molto sul recupero del ROM articolare con esercizi sia passivi e si indirizzerà il paziente anche a una corretta riabilitazione da fare a casa o assistita in un centro riabilitativo. In termini pratici una seduta come si svolge? La seduta è molto semplice. Prima andremo ad individuare ecograficamente il posizionamento della calcificazione nello spazio dell'articolazione della spalla. In termini tecnici la punteremo, quindi vedremo a che profondità è e in che posizione. Quindi metteremo il braccio del paziente nella maniera più corretta per poi praticare la seduta. Anche in questo caso durerà circa 10 minuti, ha un minimo di dolore anche qui, più o meno sopportabile, stiamo nella soglia del dolore. Dopodiché il paziente comunque può uscire dall'ambulatorio in maniera autonoma senza anestesia, senza problemi invalidanti per quel che riguarda l'arto. Comunque, chi vuole approfondire questo argomento può trovarmi nel mio studio a Monteporzio, il Physiomed, in via Cesanese 134, oppure a Pano, negli studi medici di via Roma 2, in via Togliatti 3, angolo via Roma.